bella a tutti ragazzi sono da Mirko bentornati su Ghibli channel e su farming simulator 22 allora ragazzi proseguiamo la nostra serie su farming io sono andato un po' avanti off camera ho fatto un po' di lavorettini che adesso vi faccio vedere naturalmente allora qua innanzitutto ho tagliato come vedete dell'altra erba per darla da mangiare alle nostre pecorozze perché stavo iniziando un attimino a scarseggiare con l'erba quindi vedete ho riempito nuovamente il cassone dell'erba che adesso circa al 60 per cento mi pare quindi comunque per un po' ne abbiamo dopodiché ragazzi ho venduto tutte le nostre galline e le ho ricomprate per quale motivo perché durante le live diciamo che vi ho esposto la mia perplessità nel fatto che le galline producevano pochissime uova mi avete detto nei messaggi poi nei commenti successivi alla live che probabilmente perché le galline erano troppo vecchie qualcuno in live mi aveva detto che forse erano troppo giovani in realtà avevano già mi sembra sui 50 mesi qualcosa del genere quindi probabilmente erano invece troppo vecchie c'era il problema opposto comunque non sapendolo io ho venduto tutte le galline vecchie che avevamo e le ho ricomprate tutte quante quindi vi faccio vedere adesso abbiamo le galline abbiamo 29 galline che appunto hanno sei mesi di tempo le ho appena messe quindi va bene la salute al momento ancora bassa perché l'ho proprio appena messe quindi penso che impieghino un attimino a salire con tutte le varie statistiche però la produttività è al cento per cento adesso vediamo se effettivamente produrranno più uova perché se no di qua piuttosto le tolgo e metto qualcos'altro perché sinceramente producono veramente veramente poco a livello di uova le vendo una volta ogni morte di papa quindi se nel caso anche così dovessero produrre troppo poco eventualmente vado a mettere altri quattro di questi box per le arnie perché col miele invece la produzione adesso che appunto ne avevamo messi quattro è veramente alta e il miele ci fa guadagnare anche un fracco di soldi credo anche molto più delle uova quindi sinceramente l'idea è quella poi comunque futuristicamente di smantellare sul recinto delle galline rivendere tutte le galline il gallo e andare a mettere altri quattro box per le arnie che secondo me conviene molto molto di più dato che il miele lo pagano anche decisamente decisamente meglio poi ho sistemato un attimino i nostri campi qua vabbè abbiamo sempre la solita cava di pietra chiamiamola così insomma questo terreno che ho lasciato come utilizzo nello scavo per andare appunto a fare la calce grazie alle varie mod che vi ho presentato in live quindi questo terreno per adesso lo terremo per questa lavorazione poi vedremo quando aggiungeranno magari qualche produzione proprio con le rocce allora oltre a produrre calce magari faremo anche qualcos'altro per quanto riguarda i nostri campi abbiamo il campo di sorgo che appunto sta crescendo ha un bonus del 95 per cento è fertilizzato al 100 per cento perché ho già fertilizzato tutto quindi deve solo crescere per essere poi raccolto e poi abbiamo il nostro bel campo di colza che questo invece ha un bonus del 98 per cento perché qua ero riuscito anche a passare il rullo subito dopo la semina e quindi ha un bonus molto più alto infatti avrà una gran bella resa insomma con questo campo qua che piuttosto grandino speriamo di fare un bel po di soldi il sorgo vediamo magari lo terremo per le galline se teniamo le galline o se no venderò anche quello magari ci faremo la farina adesso vediamo un attimino in base poi alle produzioni che andrò a comprare futuristicamente poi altra cosa che ho fatto vi faccio vedere un po di cose allora intanto qua ho tirato via tutti gli attrezzi e li ho messi un attimino più ordinati qua in questa sorta di rimessa visto che gli attrezzi per il vigneto comunque sono tutti abbastanza piccoli ho fatto un pochettino di ordine ho fatto un po di ordine anche qua dentro dove avevo buttato nel mezzo tutte le ballette di fieno che avevamo fatto le ho messe lì da parte poi vedremo quando ci serviranno e ho aggiunto anche nuove serre alcune le avevo già aggiunte in live altre le ho aggiunte per l'appunto off camera qua abbiamo il nostro idrante che quello moddato che ci consente di pagare mi sembra 5 10 euro al giorno adesso non ricordo per l'affitto dell'idrante ma non paghiamo più l'acqua un'altra cosa che ho fatto dato che comunque l'idrante l'avevo piazzato lì ma dovevo sempre fare avanti indietro alla fine per ogni serra ho deciso di mettere anche l'idrante così praticamente ve lo faccio vedere diciamo proprio utilizzandolo adesso prendiamo un attimino questo trattore allora stacchiamo un attimino questo che per adesso non ci serve vi faccio vedere direttamente con la botte una cosa effettivamente molto comoda il fatto di mettere un idrante praticamente per ogni serra perché io comunque perdevo una marea una marea di tempo a fare avanti indietro per caricare la botte e poi scaricarla nella serra quindi ho detto perché diamine non vado a fare una cosa unica ed effettivamente così è molto meglio perché io prendo la mia botte vabbè adesso è già piena perché comunque l'avevo già riempita e anche le serre in realtà sono tutte al massimo però giusto per farvi vedere che praticamente io andando con la con la mia bella botte direttamente qua con l'idrante e quindi il carico e lo scarico dell'acqua io praticamente qua scarico l'acqua nella serra e con la r ricarico quindi praticamente carico e scarico contemporaneamente di conseguenza e l'ho fatto ovviamente questo lavoro per ogni serra quindi vedete che per ogni serra che ho messo sia per quelle che c'erano già sia per quelle nuove ho messo l'idrante vicino al punto di scarico dell'acqua in questo modo si carica e si scarica contemporaneamente in questo modo la botte non in realtà non si scarica mai e praticamente possiamo diciamo rendere le serre semi automatiche diciamo così nel senso che questo lavoro è possibile farlo a questo punto anche con la botte piccola perché tanto come carichiamo scarichiamo e riempiamo la serra quindi la botte grande da 8000 litri in realtà neanche ci servirebbe però vabbè questa ormai ce l'avevo e ormai me la tengo come vedete ho aggiunto appunto anche un'altra serra qua quindi abbiamo un totale adesso di 7 serre adesso in questo video ragazzi vi faccio un po' un recap di quello che ho fatto off camera perché sono riuscito a giocare diciamo un'oretta e mezza due ore io off camera portarmi un po' avanti e quindi vi faccio vedere un po' di cosine in modo da farvi un riepilogo così non vi perdete pezzi diciamo di ciò che ho fatto io off camera poi ho installato altre mod che adesso naturalmente vi faccio vedere alcune me le avete passate voi e vi ringrazio tramite ovviamente il mio discord che comunque trovate qua sotto in descrizione se vi volete scrivere siete benvenuti vi aspettiamo a braccia aperte adesso faccio un attimo manovra e la botte la lascio qua che tanto per il momento non ci serve perché le serre le ho già tutte quante riempite al massimo impiegandoci pochissimo tempo in 10 minuti neanche erano tutte completamente riempite al massimo ve lo faccio vedere che cacchio sto a fa sbagliatasto ok ve lo faccio vedere anche di quale nostre produzioni vabbè abbiamo l'uva che poi faremo con la vigna però vedete che le nostre serre sono tutte completamente completamente piene in questo modo siamo a posto però quale frago le distribuzione vabbè che è spenta la cosa di frago lo che è non ci interessa va bene quindi tutte le serre insomma sono assolutamente assolutamente piene al massimo qua abbiamo la nostra riproduzione di calceviva che per il momento è ferma perché non gli ho più messo sassi poi li metterò con calma e va bene quindi quindi altra cosa che volevo per l'appunto farvi vedere è una nuova mod per il vigneto che mi avete mandato ovvero la solita trincia diciamo la tpn 140 però moddata cosa cambia rispetto alla trincia normale cambia che praticamente vedete come pulito il vigneto dall'erbaccia non ci sono più l'erbaccia neanche sotto il vigneto che di solito questa trincia non le toglie perché comunque se voi passate con la trincia vi faccio vedere la trincia taglia giustamente la larghezza della trincia stessa quindi se io passo qua in mezzo vado sia pulire l'erba che c'è nel mezzo ma quella laterale non la non si riesce mai a toglierla l'unico metodo per andare a pulire bene il vigneto era quello di passare il diserbante il problema è che il diserbante vi va a diciamo ridurre la produttività del vigneto questa mod ci viene in aiuto non è ovviamente una mod realistica però di sicuro aiuta soprattutto nel mio caso che comunque sono da solo a gestire tutta la farm è un bel aiuto in più vi faccio vedere il funzionamento quando io l'accendo vedete che questa vigneto questa trincia va a tagliare diciamo per una larghezza totale di tre metri quindi è come se avesse delle lame invisibili che vanno oltre la trincia stessa e quindi vi va a tagliare anche diciamo nelle parti più esterne quindi voi facendo una passata nel mezzo questa è più o meno la larghezza che abbiamo nel vigneto io vado a tagliare a trinciare non solo l'erba nel mezzo ma anche quella ai lati quindi riesco a pulire completamente tutto il vigneto senza dover passare il diserbante quindi senza dover diciamo così andare a ridurre la diciamo così la capacità del vigneto stesso la produttività del vigneto stesso per cui abbiamo diciamo così un bonus alla resa comunque alto questo va ancora fertilizzato una volta perché al 73 per cento comunque diciamo che c'è una resa decisamente più alta perché ovviamente tutto è più pulito e poi anche a livello visivo a me sinceramente piace che il vigneto sia tutto bello pulito dall'erbace anche vicino proprio i filari e sotto i filari quindi senza il diserbante quello purtroppo non è possibile ed è possibile solo grazie a questa mod come detto non è sicuramente una mod realistica però non è neanche un cheat diciamo che è semplicemente una cosa che aiuta un attimino di più la pulizia del vigneto e quindi ribadisco dato che sono anche da solo a gestire la farm non giocando per adesso in multiplayer ho accettato di metterla per questo motivo qui perché comunque effettivamente è un bel aiuto valido quindi questa per adesso la scolleghiamo perché tutte le varie passate le ho già fatte tengo fuori il landini perché vi faccio vedere un attimino altre due mod che ho inserito allora la prima è una mod con un pack praticamente di cassoni carrelli vari molto molto bello perché lo trovate sul mod ab è il pack della Roland con una marea di vedete cassoni carrelli nuovi questi qua sono tutti ovviamente moddati come potete vedere quindi ci sono container ci sono cassoni c'è insomma tutto quanto e in più ci sono anche sempre nello stesso pack quindi nello stesso zip che potete tranquillamente scaricare ci sono anche i caricatori diciamo delle balle quelli gli autoloader insomma quindi se andiamo su carica balle al fondo vedete che ci sono questi due Roland quindi questo più piccolo questo qua invece più grosso che praticamente hanno la funzione di autoload quando lo acquistate basta che mettete la spunta si su autoload e appunto funziona come autocaricante per quanto riguarda le balle quindi questo comunque gli ho messi perché è un gran bel pacchetto devo dire perché comunque delle belle configurazioni anche nel design sono fatti veramente veramente bene hanno anche appunto la possibilità di mettere l'autoload per cui quando magari faremo una finagione più grossa quando avremo diciamo le bestie ci servirà fare una bella finagione almeno abbiamo già gli autoloader installati poi un'altra moda che ho messa ma questa più per più che altro per una cosa diciamo così estetica visto che ancora non l'ho messa il nostro landini e l'ercio da fare schifo e una nuova idro pulitrice e l'idro pulitrice della stile questa qua quindi è ovviamente un'idro pulitrice moddata che costa 1550 euro quindi neanche tantissimo io magari la metterei sì mettiamolo qua vicino al silos togliamo diciamo così la rottura di balle degli oggetti vicini perché io me la vorrei mettere qua sul piazzale in modo che non rompa troppo le balle ma che sia anche comoda per i trattori visto che qua faccio avanti indietro ci passo con questo diamo una lavata e via quindi la mettiamo magari qua perfetto e proviamo a dare un attimo una lavata a questi due trattori li laviamo magari entrambi così facciamo anche un po di pulizia perché il landini nello specifico è veramente l'ercio da far schifo quindi spegniamo questo questo l'ho lasciato col motore acceso e lo spegniamo sì anche questo effettivamente è abbastanza è abbastanza schifo quindi prendiamo questa e andiamo a pulire un attimino il nostro il nostro trattore vabbè la mod di per sé non fa niente di diverso che è una classica idro pulitrice semplicemente ha un'estetica secondo me è un attimino più carina rispetto a quella grigia classica insomma che abbiamo a disposizione come comandi no direi che non abbiamo comandi particolari diamo una lavata anche al john d'irva già che ci siamo facciamo un po di pulizia mezzi che serve perché fanno veramente veramente schifo ok va bene sì qua il tubo non è ovviamente lunghissimo è più o meno come quello normale però vedete che lava tranquillamente tutto è appunto questa estetica diciamo secondo me è un attimino più carina vedete poi si aggancia anche il manico quindi è molto bellina da vedere quindi vabbè questa l'ho installata giusto per diciamo una questione estetica mi piaceva il colore rispetto a quella classica secondo me decisamente più carina o finalmente abbiamo il trattore che è tornato nuovo poi piano piano laverò anche tutto il resto dell'attrezzatura però vabbè quello magari lo lo facciamo in live ok rimettiamo a posto anche i landini tanto per adesso ci siamo naturalmente nei prossimi video nelle prossime live vedremo di sistemare i campi quindi dovremmo trebbiare sicuramente il sorgo e la colza che credo il prossimo mese adesso siamo a giugno quindi nel prossimo mese in teoria dovrei poter raccogliere entrambi allora la colza si e il sorgo credo anche dove cacchio sta il sorgo che me lo perdo eccolo qua no il sorgo ad agosto però a luglio in realtà dobbiamo trebbiare la colza che sicuramente sarà da fare e per l'uva invece andiamo a settembre quindi ok facciamo il prossimo mese la colza il mese successivo quindi a luglio facciamo il sorgo e poi ad agosto faremo diciamo la mega vendemmia sui due vigneti perché poi in live abbiamo messo anche appunto questo vigneto qua quindi l'estensione del primo abbiamo fatto un secondo vigneto in questo campo che di solito abbiamo sempre usato per il frumento ma alla fine non ci serviva un granché quindi ragazzi io per adesso mi fermo qua con questo nuovo video dedicato appunto a farming simulator 22 questo video giusto un recap avendo fatto un bel po di cose off camera ci tenevo a farvele vedere perché sennò giustamente poi magari ci si perde dei pezzi quindi volevo farvi un piccolo recap di quello che ho fatto e farvi vedere appunto queste nuove mod che ho installato così eventualmente se le volete cercare anche voi le trovate tutte sul mod hub tranne la trincia che vi ho fatto vedere che non so se sia sul mod hub perché a me l'ha passata belluno che ringrazio me l'ha passata su discord quindi eventualmente cercate comunque la trincia la tpn insomma questa qua moddata penso che o sul mod hub o comunque su un sito esterno la si trovi senza troppi problemi quindi ragazzi io rimango a disposizione ovviamente se avete nuove mod da consigliarmi fatemelo qua sotto nei commenti come sempre lasciate un sacco un sacco di like condividete per l'appunto commentate iscrivetevi al canale se non siete iscritti iscrivetevi anche al mio canale twitch lo trovate sotto in descrizione per non perdervi nessuna delle mie prossime live detto questo vi ringrazio di salute ci vediamo al prossimo gameplay ciao belli ciao